Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi 19 ottobre. Vi segnalo che questa sera ci sarà Matrix. State attenti perché su Matrix questa sera ovviamente daremo conto di una giornata che si avvia ad essere una giornata di passione sui mercati e vi diremo che cosa sta succedendo in questo governo. Almeno nella prima parte della trasmissione dovremo assolutamente affrontare la crisi di governo che non è in atto ma è potenzialmente in atto secondo quello che è successo ieri. Andiamo per ordine. Quello che è successo sui giornali è molto semplice. Il titolo del Corriere della Sera è Scontri e accuse tra Lega e Movimento 5 Stelle. Salvini rivendica la porcata e il governo vacilla invece il titolo del fatto intendendo come porcata il condono fiscale e il fatto che il governo vacilli è un po' più forte degli scontri e accuse di cui parla Corriere della Sera che sembra nel titolo moderato ma poi vedrete un po' meno. Salvini e Di Maio rompono sul più bello. Questo è il titolo della verità che dà il senso che ci sia un grande problema all'interno di questo governo. Insomma i titoli importanti oggi dei giornali non sono tanto sull'Europa. Cioè Gianni ma lasciateli lavorare. Ma porca puttana! Ma cosa c'entra lasciateli lavorare? Genio! 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 Ma se si stanno facendo male da soli ma che vuol dire? Ma cosa vuol dire lasciateli lavorare? Di a Salvini e a Di Maio che si mettessero d'accordo. Se oggi uno può dire una cazzata è quella che ha detto sto genio qua. Lasciateli lavorare. Tante volte i giornali non li lasciano lavorare. Tante volte gli fanno delle critiche prima ancora che si muovano. In questo unico caso sono un problema loro interno. Chiaro? Genio! Non dipende dalla cattiveria del mondo. Allora se posso continuare in questa assurda situazione in cui ci troviamo la situazione in cui ci troviamo che c'è da una parte la crisi tra questi due dall'altra arrivano questi cornuti come Moscovici con le corna avete presente le corna come quello che mi ha scritto ora i cornuti arrivano a Roma e dicono deviazione senza precedenti. Però c'è anche un'altra battuta che dice Juncker abbiamo e basta non vi diamo altra flessibilità. Però io non noto nessuno che scriva una cosa decente. Ma se Juncker, il presidente della Commissione europea, dice che non dobbiamo avere altra flessibilità vuol dire che nel passato non abbiamo avuto di flessibilità. E quindi mi dovete spiegare perché se nel passato abbiamo avuto flessibilità è stata concessa nel passato e non a questi? Insomma l'idea che ci siano dei vertici europei che dovrebbero stare a casa invece che a Bruxelles e che ci rompono le balle a questo, a quello precedente a tutti i governi italiani, insomma di un'Europa senza senso ieri plasticamente si è vista con Moscovici. Ma il punto fondamentale è che l'Europa ieri conta poco. L'Europa di ieri contava poco. Il casino se lo sono fatti in casa loro e se lo sono fatti su questo condono fiscale. Oggi in un intervista, in un colloquio come si suol dire perché non è proprio un'intervista, oh ciao dall'Arabia Saudita Alessio, lì c'è una storia pazzesca di cui voglio parlare più tardi. Comunque oggi in un colloquio di Mario Aiello con Salvini sul messaggero, Salvini dice due cose non ce la faccio domani a venire al Consiglio dei Ministri che aveva prontamente chiamato Conte, ma se vuole ci sarò. Quindi un passo indietro rispetto a un ministro che ieri si era permesso di dire al Premier io non vengo al tuo Consiglio dei Ministri. Ragazzi, ma tu fai il Ministro della Repubblica? Se c'è un Presidente del Consiglio che fa un Consiglio dei Ministri o sei un assente giustificato, centinaio doveva fare il viaggio in Sud America e quindi è andato a fare il suo viaggio, tutto. Oppure se un Presidente del Consiglio fa qualcosa non fai il fenomeno dicendo che non ci sei. Lo dico con tutto rispetto a meno che tu non voglia rompere col Presidente del Consiglio. Allora quella è una posizione politica che è quella che mi sembra che abbia avuto Salvini. Però ieri è un po' rispetto alla fase di ieri, Salvini oggi è ritornato indietro dicendo nel colloquio di Eiello ma se serve ci sarò. E' certo che serve. Il casino nasce proprio dal condono fiscale che vuole la Lega e che il Movimento 5 Stelle non vuole. Però dice un'altra cosa Salvini importantissima. Ciao a Capri Francesco. Non si modifica il testo della pace fiscale. Chiaro? Non si mondifica. Condono scandalo titola Repubblica. In realtà ricordo a tutti quanti voi c'è una bellissima tabella oggi sul Corriere della Sera in cui negli ultimi 40 del 1974 oggi sono stati fatti 131 miliardi di euro di condono. Verderami dice che in questo caso l'ipotesi che il Movimento 5 Stelle non conoscesse il testo del decreto fiscale è molto simile, ne parla anche ovviamente il fatto con una luce completamente diversa, a quando nel 1994, pochi di voi se lo ricorderanno, il decreto Biondi che era una sorta di condono giudiziario, in quel caso con Tangentopoli in corso praticamente. Ecco, quel decreto Biondi, Maroni all'epoca ministro mi sembra degli interni, se non del lavoro degli interni, della Lega, l'aveva approvato in Consiglio dei Ministri, se non che dopo il Consiglio dei Ministri lo aveva di fatto bocciato, un po' come ha fatto Di Maio ieri e ricorda Verderami quel governo poi durerà soltanto nove mesi. Siri in un'intervista al Corriere della Sera dice forse Di Maio era distratto perché noi quel condono fiscale gliel'abbiamo spiegato per filo e per segno. Belpietro per la prima volta trovo sulla verità un accenno critico a questa manovra, benvenuti, si accorge Belpietro sulla verità che la manovra ha anche il reddito di cittadinanza che è una cacata assoluta e si rende conto anche che New China, ero bambina già c'erano i condoni, effettivamente erano tombali, si accorge anche Belpietro che non c'è una detassazione, adesso la dice oggi nel momento di maggiore fragilità di questo governo, ma devo dire che su questa cosa chi segue la zuppa sa che dal primo giorno l'abbiamo detto, insomma ma di che stiamo parlando? Molto molto interessante il pezzo di oggi di Marino sul giornale in cui dice ma tutti questi ipocriti anticondono, ma fate un po' i lavoratori autonomi, fate le partite IVA, leggetevi le 10 pagine per la fatturazione elettronica soltanto per fare una fatturella elettronica e poi capite come è possibile fare tanti complessi errori all'interno della propria dichiarazione dei redditi, certo se tu prendi il tuo stipendietto e fai soltanto quello, non fai il tuo secondo lavoro, non fai il nero, non fai il professore ad esempio il pomeriggio lezioni, perché quelli non sono evasori fiscali, quelli no, perché sono i dipendenti che pagano tutto, ecco se fai quei lavori non sai che cosa è il condono, quindi l'ipocritia anticondono raccontata oggi da Marino è molto divertente, mentre Campi sul messaggero ve lo segnalo e tira un'altra delle considerazioni che oggi si possono fare su questa vicenda e cioè dice che è un goffo pentimento di Di Maio camuffato da denuncia pubblica, cioè alcuni sostengono che Di Maio, e sono tesi contrarie a quelle di Siri, intervistato oggi dal Corriere Sera, capisse benissimo, aveva capito benissimo che cosa era questo cazzarola di condono, ma dopo che ha visto la reazione della sua base, dei suoi consiglieri, ma che state facendo di travaglio di tutti questi qua che oggi titola la porcata, cosa fa Di Maio? Fa finta di non essersi accorto del complotto della denuncia, la denuncia ragazzi, la denuncia, la denuncia e quindi in questa maniera platealmente prende le distanze dal condono che lui dice non l'avevo capito, no? A sua insaputa come ieri qualcuno ha detto. Una cosa sostanziale però che vorrei dirvi riguarda questo condono e che sia ben chiara, oggi tutti parlano del condono e soprattutto del tema dello scudo penale, cari amici, oggi lo schermo mi sembra Enzo Marro sul Corriere della Sera ma non solo lui, secondo voi un condono fiscale che prevede che tu possa integrare il tuo reddito negli ultimi 5 anni di 100 mila euro all'anno di imposte non pagate, 100 mila euro all'anno di imposte non pagate sono sotto la soglia del reato fiscale perché tu in realtà commetti un reato fiscale se evadi più di 150 mila euro ma se fai 100 mila euro sei sotto quella soglia, quindi quel reato fiscale non ce l'hai. Ma il punto fondamentale è che quei 100 mila euro sono evidentemente frutto nel 90% dei casi di nero, di evasione, di fatture non fatte, di fatture sottostimate, di case vendute senza aver messo nell'atto pubblico il dato giusto, cioè non è che i soldi arrivano dal passato così a cavolo, nascono sulle fontane, fosse anche la cosa più banale che me l'ha dati mio padre, 100 mila euro cantanti e non ci ho pagato la tassa di donazione o di successione, insomma tutta questa montagna dei soldi è figlia nel 90% di illeciti, siccome c'è una legge, un reato che si chiama autoriciclaggio per cui è una sorta di aggravante, quindi io se sequestro una persona dovrei andare in galera per il sequestro della persona per 40 anni, oltre i 40 anni ti becchi 4-5 anni perché con i soldi del sequestro di persona ti sei comprato la macchina, è ridicola, è un aggravante, si chiama autoriciclaggio, quindi se tu fai un condono da 100 mila euro all'anno e non metti lo scudo penale non aderirà a quel condono nessuno, nessuno perché sarebbe come autodenunciarsi, come autoriciclatori che non vuol dire aver sequestrato una persona, essere mafiosi, ma che quei soldi sono figli di un reato, piccolo o grande che sia, è ovvio che sono figli di un reato, quindi nessuno avrebbe fatto un condono da 100 mila euro facendo comparire questi 500 mila euro in 5 anni se non ci fosse uno scudo penale, ci arriva anche un bambino, ci arriva anche Di Maio, ci arriva anche Buonafede, se non fai uno scudo penale non fai i 100 mila euro, allora cosa sto dicendo? Non sto dicendo che è giusto lo scudo penale, io purtroppo non posso condonare un euro, quello che sto dicendo è che non fate gli ipocriti, se volete fare la dichiarazione integrativa e se volete far emergere 100 mila euro è evidente che ci deve essere uno scudo penale, se no col cavolo che ci sarà una sola persona al mondo che autodenuncerà al fisco i 100 mila euro sapendo che poi arriva un PM e dice Bello, mo te faccio fare 4 anni di galera, non è difficile da capire questo, lo può capire anche Di Maio e Buonafede. L'altra cosa incredibile di questo condono che è una roba che ti fa venire il sangue al cervello è la seguente, seguitemi bene, io spero che ci sia tra di voi qualche partita IVA, qualche lavoratore autonomo, qualcuno come me che deve fare la fattura alla fine del mese. Cosa succede? Io che cosa faccio? Io faccio le fatture, sono nel 2018, io sono sicuro che 2012, 2011, 2010, cioè 6-7 anni fa, quello che ho fatto è fatto, nel senso io ho dichiarato tutto, ma non mi devo tenere le carte, non mi devo tenere i giustificativi, non mi devo tenere un cazzo, posso prendere i faldoni e buttarli nel cesso, chiaro? Perché è prescritto, cioè ti possono venire a casa a cercare, ad accertare quello che hai fatto fino a 5 anni, d'altronde come fanno a chiedermi, senta Porro, 10 anni fa quel ristorante da 82 euro è sicuro che era inerente alla sua attività professionale? È evidente che devi mettere un limite perché io non posso avere il ricordo degli ultimi 20 anni. Bene, con questo condono sapete che cosa hanno fatto questi geni? Hanno prorogato, hanno aumentato la prescrizione e quindi l'accertamento si può fare fino a 16 anni, quindi oggi siamo nel 2018, io dovrei sapere come ho speso i miei soldi nel 2002 o nel 2003 e doverlo documentare per un'ipotesi, per esempio di mancata presentazione della mia dichiarazione dei redditi. Diciamo tra i 16 e i 14 anni, avete capito? 16 anni! Quindi io dovrei avere tutte le carte, tutte le memorie, tutti i giustificativi, mi devo difendere nei confronti di uno Stato che come sapete quando vi aggredisce non va per il sottile fino a 16 anni fa. Questa dovrebbe essere una battaglia di libertà, non le stronzate che facciamo tutti i giorni. 16 anni! Bene, la UE boccia i conti, io su questo ho già detto qualcosa, mi interessa molto poco, l'unica cosa che mi interessa oggi è pensare che su queste vicende io oggi leggo Elza Fornero sul foglio. Quando leggo Elza Fornero che mi dice una manovra contro il popolo, io dico posso leggerlo questo pezzo? Io posso leggere il pezzo Elza Fornero che mi dice che questa è una manovra contro il popolo e non per la riforma pensioni, ma per quel governo di sciagurati, che è il governo Monti, che ci ha messo tasse sulla prima casa, distruggendo l'edilizia, tasse sulle barche, distruggendo il settore delle barche, tasse sulla Tobin Tax che abbiamo soltanto noi, tasse sulle rendite finanziarie, le ha fatte dopo Renzi. Cioè da un governo che ha distrutto consumo e ripresa di questo paese, io farmi sentire una manovra contro il popolo non la voglio sentire. Elza Fornero, ti posso invitare in trasmissione, ti posso sentire come interlocutrice, ma quando ho questa arietta susseguiosa che La Fornero deve spiegare a questi come si governa, no, no, come direbbe Scalfaro, non ci sto, va bene? Incredibile, sped a 327, questa mattina pure è partito male, chissà tasse sugli ormeggi, vabbè insomma andiamo avanti, le ferrovie dello Stato potrebbero comprare tutto il 100% dell'Italia, è uno sguppone di mito, sul messaggero dice intanto le FS comprano tutta l'Italia e poi cercheranno dei partner per gestirla con altri. Beh è stupendo perché poi non è che stanno litigando soltanto sul condono, stanno litigando anche su un'altra questione fondamentale, l'RC Auto, cioè vorrebbero renderla più cara al nord per pareggiare i conti col sud, una roba che soltanto un cerebro leso può aver pensato perché l'assicurazione è in funzione della rischiosità di un sinistro, se è più facile che un furto avvenga a Napoli che a Bolzano, obiettivamente l'assicuratore deve far pagare di più a Napoli che a Bolzano. Poi possiamo anche pensare che la disuguaglianza tra Napoli e Bolzano sia ingiusta, tutto uguale, tutte le polizze uguali, cosa succede? Che si adegheranno Balsano a Napoli, certo non Napoli a Bolzano, no? Anche qui forse Di Maio ci può arrivare. L'ultima cosa straordinaria su cui anche Di Maio ci può arrivare, più che Di Maio il Movimento 5 Stelle, è la questione del Brennero. Quando ieri il ministro Fraccaro va e dice dobbiamo chiudere il tunnel del Brennero perché non serve a nulla, dobbiamo fare tutte le minchiate ecosistemibili su cui arrivano questi, beh io insomma penso, ma Fraccaro come fai a rispondere al punto di vista di Salvini che è di una banalità sconvolgente e cioè dice questo tunnel è lungo 230 km, ne avete già fatti 90, 90 km di tunnel e tu lo vuoi bloccare, cioè c'è qualcuno qua che dice che un tunnel di 230 km di cui 90 sono già stati fatti lo blocchiamo, vado avanti, chi lo paga sto tunnel? Gli 8,3 miliardi chi li paga? L'Unione Europea, una piccola parte d'Italia, una piccola parte d'Austria, il resto è l'Unione Europea, cazzo ci danno i soldi per fare un tunnel, è fatto al 50% e lo vuoi bloccare, voi dite non serve a niente questo tunnel, quindi rinunciamo ai soldi dell'Unione Europea, lasciamo un buco nella montagna, è vitale, sapete quanto sono i tir che passano dal Brennero, i tir, macchine che fanno inquinamento dal Brennero, passano più tir che dall'intero valichi nei confronti della Svizzera, cioè le nostre merci per andare al nord passano tutte dal Brennero e ce le fermano e inquinano e tu stai ancora a rompere le balle sul tunnel del Brennero, io dico come si fa? Cioè uno così tu non ci si da tavola, però poi dopo vedi Elsa Fornero sul foglio e dici vabbè ragazzi se ritornano quelli moscovissi eccetera ti prende un colpo al cuore, ma un vero colpo al cuore, infine l'ultima storia la sapete tutti i giorni la cito è quella di Cassoggi, cioè il giornalista del Washington Post, amico dei reali dell'Arabia Saudita, diventato torturato, gli hanno tagliato due dita, l'hanno ucciso nel consolato turco, insomma il giallo diventa giallo, uno degli uomini, dei militari, dei servizi segreti arabi che sono andati a fare il blitz con due aerei privati a Istanbul e hanno ucciso questo giornalista, uno degli uomini del commando misteriosamente è morto in un incidente d'auto in Arabia Saudita. Nel frattempo la Davos di Riyadh, cioè sostanzialmente il grande incontro finanziario di Riyadh che si sarebbe dovuto tenere in questi giorni, vede finalmente anche gli americani dire ciao, io dico rompiamo tanto le balle a Erdogan, ma nel frattempo vendiamo 110 miliardi di dollari di armi all'Arabia Saudita che fa la guerra con lo Yemen e quando c'è un oppositore va in un altro paese, gli taglia le dita e lo ammazza. Beh insomma, allora diciamolo, hanno necessitato i dittatori un po' più simpatici e quelli un po' meno simpatici, ma in funzione dei nostri interessi, non già dei diritti di libertà che loro più o meno violano. Nel frattempo un dittatore che non ci sta simpatico, che peraltro dittatore non è, e cioè Putin, beh con lui non si parla perché è un dittatore, mentre invece con questi qua che uccidono le persone in Arabia Saudita, nei consolati e che invece no, c'hanno questa rietta, oggi il Daily Mail, il Daily Mail in prima pagina fa vedere quanti soldi gli arabi danno ai parlamentari inglesi che di fatti stanno lì zitti e cuccia anche loro nei confronti della grande Arabia Saudita. Detto questo vi saluto, questa sera c'è Matrix, non potete mancare, a più tardi, ciao!